Ciao ragazzi, sono Manuela Furlan, capitano della nazionale femminile di rugby. Manca sempre meno all'inizio degli smart games, ma voi siete pronti? Siete carichi? Io se fossi in voi non starei più nella pelle. Vi faccio un grosso in bocca al lupo, ma soprattutto vi auguro di divertirvi tanto. Ciao, un abbraccio!